Musica Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con lo speciale elezioni di Rete8 che questa sera dedichiamo alle amministrative di Montesilvano. Come noto il 26 maggio si voterà per le elezioni europee e in 99 comuni abruzzesi, tre dei quali con più di 15 mila abitanti, Pescara, Montesilvano e Giulianova, dove si potrà ricorrere se necessario all'eventuale turno di ballottaggio. Questa sera conosceremo meglio i candidati sindaco alla comune di Montesilvano, sono tre, passiamo subito a presentarvi. Abbiamo il piacere di avere ospite Ottavio De Martinis, candidato sindaco del centrodestra, che saluto e ringrazio per essere intervenuto. Vedremo poi da quali liste sarà sostenuto. Alla sua sinistra Raffaele Panichella, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, buonasera e benvenuto anche a lei. E poi Enzo Fidanza, candidato sindaco della centrosinistra. Buonasera anche ad Enzo Fidanza. Allora, Ottavio De Martinis, dicevamo candidato sindaco del centrodestra, è sostenuto dalla Lega, Forza Italia Udc, Fratelli d'Italia, lista Montesilvano in comune. De Martinis, apriamo subito e rompiamo subito il ghiaccio con lei. Montesilvano, terza città in Abruzzo, quindi un comune molto importante. Lei è attualmente vice sindaco, assessore uscente, una città che ha delle problematiche, alcune delle quali sono state risolte. Che visione ha lei di Montesilvano e quali le, come dire, le urgenze da affrontare nei prossimi cinque anni? Montesilvano, come ben dice, è la terza città in Abruzzo e come tale merita un'attenzione, meriterebbe un'attenzione non soltanto a livello cittadino, ma anche a livello regionale, ma anche a livello nazionale. In questi anni i problemi affrontati sono stati tanti, lo abbiamo fatto nonostante la poca attenzione appunto da parte di coloro che enti sovracomunali avrebbero dovuto in realtà darci una mano. Quello che Montesilvano ha assoluto bisogno di implementare, di migliorare, è la vocazione turistica e in quanto tale noi abbiamo redatto un programma in otto punti che appunto basa l'azione politica futura su questa vocazione. Ho sottolineato la scarsa attenzione da parte degli enti sovracomunali, non a caso. Finalmente la nostra regione ha dopo tanti anni un governo di centrodestra, stessa cosa dicasi per la nostra nazione che con la Lega è molto ben rappresentato, ma anche la provincia ultima in ordine di elezione ha finalmente un presidente molto bravo che è Antonio Zaffiri che rappresenta il centrodestra. Questo per noi è un motivo di fiducia e di soddisfazione nella misura in cui qualora sindaco potrà contare su un aiuto fondamentale, un aiuto che in questi cinque anni non c'è stato e un aiuto che servirà appunto a far sì che Montesilvano al di là di terza città d'Abruzzo diventi anche un importante centro di Vierasco, in realtà già lo è, ma vogliamo che questo centro sia sempre più attrattivo e sia sempre più meta di vacanze da parte di turisti che comunque voglio sottolinearne in questi anni ci sono stati, perché il nostro polo alberghiero è stato sempre pieno. Quello che forse è mancato è quel turismo che per tanti anni, negli anni 80 e 90, io ho vissuto, sono cresciuto a Montesilvano, in realtà arricchiva il territorio e vengo al problema più grande che abbiamo sul territorio montesilvanese e non solo, che è quello ovviamente della mancanza di lavoro, della difficoltà economica che tante famiglie affrontano. L'unica ricetta, la migliore ricetta che noi intendiamo regalare alla città è appunto sviluppare un'economia cittadina turistica che possa a cascata dare lavoro e dare ricchezza alle famiglie che oggi vivono un momento di difficoltà. Molto bene. A beneficio dei nostri telespettatori ricordiamo che saremo insieme circa 90 minuti, avremo modo di conoscere in maniera approfondita i tre candidati sindaco di Montesilvano e allora passiamo a presentare Raffaele Panichella, architetto, da 30 anni circa impiegato all'ufficio del territorio della provincia di Pescara, non ha mai avuto incarichi politici. Panichella, lei è impegnata attualmente in un tour cittadino per rincontrare proprio personalmente i candidati cittadini, per conoscere anche la realtà territoriale, è una scelta che la fa avvicinare ancora più al territorio, immaginiamo. Sì, buonasera a tutti, intanto grazie per l'invito, questa è la seconda occasione di un dibattito con gli altri due candidati, anche una bella opportunità per me per farmi conoscere meglio dai cittadini di Montesilvano che a breve saranno chiamati ad esprimersi il 26 maggio e quindi impegno proprio qualche secondo per raccontare qualcosa in più di me perché gli altri candidati sono molti noti della politica locale, quindi approfitto dell'occasione per dire a chi ci sta guardando che appunto sono 53 anni, architetto come lei ricordava, vivo a Montesilvano con la mia famiglia, tre figli, diciamo un'esistenza normale che però da qualche anno si è accompagnata con questa passione e con questo legame forte con il Movimento 5 Stelle. Benché adesso insomma sono per la prima volta venuto un po' fuori, sono spuntato come un fungo nel panorama montesilvanese, in realtà è da molti anni che da attivista insomma do una mano anche ai parlamentari, a Domenico Pettinari, insomma ai nostri consiglieri regionali, ai consiglieri comunali. Quindi comunque sono stato sempre dietro le quinte ma ho sempre seguito le vicende della politica locale e con molto interesse. L'incontro con i cittadini per noi è una cosa normale perché noi da anni facciamo con periodicità, diciamo proprio settimanale, degli incontri, delle assemblee pubbliche, ci preoccupiamo di organizzare eventi, eventi sempre che finalizzati ad informare il cittadino sui vari temi. Chiaramente per vocazione siamo molto vicini ai temi che da sempre sono nelle corde del Movimento 5 Stelle, quindi l'ambiente, la sostenibilità, la mobilità, l'etica della politica soprattutto, che è un tema molto forte, anche uno dei temi che a me è più appassionato sin dall'inizio perché ero uno che a votare nemmeno più ci andava. Fondamentalmente questo riscontro con i cittadini l'abbiamo già cominciato la settimana scorsa, è stato molto bello, interessante. Devo dire che presentarsi con la spilletta Movimento 5 Stelle per molti è già una garanzia di qualità perché questo movimento ha dimostrato negli anni, è il movimento più giovane sul panorama politico italiano, però ha dimostrato negli anni di avere un modo ben preciso di fare politica, un modo netto, chiaro, di estrema onestà sempre nei confronti dei cittadini, di trasparenza assoluta ed è quindi con queste credenziali che noi ci mettiamo davanti agli elettori di Montesilvano e sappiamo che ci daranno un riscontro, un riscontro positivo perché i temi che abbiamo sono temi importanti e il programma che abbiamo elaborato è un programma concreto, non è un programma che ha azioni mirabolanti ma mira a recuperare invece energie e risorse in contesti che si sono trascurati in questi anni ma che sono invece fondamentali per lo sviluppo di questa città. Avremo modo di entrare proprio nel dettaglio del programma del Movimento 5 Stelle così come negli altri programmi degli altri due candidati. Ed allora Enzo Fidanza, buonasera Fidanza, diceva Panichella, molto noto, effettivamente ha già ricoperto diversi incarichi istituzionali, vicepresidente della provincia di Piescara, vice sindaco d'assessore al bilancio nelle giunte comunali passate, insomma tanta esperienza però si è circondato di tanti giovani proprio perché si vuole dare una sorta di rinnovamento a questo centro-sinistra, nuove energie, fidanza. Sì, l'insegna del rinnovamento che è la strada che abbiamo scelto con questi giovani ai quali abbiamo chiesto questa disponibilità, questa voglia di partecipare al lagone politico ma non li abbiamo lasciati soli, li abbiamo accompagnati con questa mia disponibilità data al partito e alla coalizione di centro-sinistra per accompagnare queste nuove esperienze in un percorso di crescita e di attività amministrativa a cui crediamo profondamente. Io penso che, e questo devo dire che insomma non è la prima volta che ascolto il candidato sindaco sindaco del centro-destra fare riferimento a quelle che sono le inanellature del livello regionale e del livello nazionale. Io penso che il livello locale abbia un suo spessore, una sua validità, una sua coerenza da rappresentare sul territorio a prescindere da quelle che sono gli altri livelli anche perché loro vengono da un'esperienza che c'è già stata. Cinque anni di attività amministrativa sono già un punto di valutazione a cui loro devono rispondere alla città e se rispondono dicendo che c'è un programma nuovo per i prossimi cinque anni vuol dire che è come se si volessero smarcare da quello che hanno già fatto. Io credo che non sia onesto intellettualmente nei confronti della città nel non rispondere in quello che non hanno fatto. Io penso che anche se all'interno di questa inanellatura a cui loro fa riferimento mi viene in mente una frase, non esistono venti favorevoli per chi non sa dove andare. Ora uno o ha le idee chiare di quello che deve fare dentro l'attività amministrativa oppure è inutile che va alla ricerca di queste inanellature. A Montesilvano c'è un degrado nella città che io penso sia alla luce degli occhi di tutti. Noi abbiamo fatto un programma che tiene conto soprattutto, e questo la dice lunga su quello che si vede in città, un grande piano di manutenzione ordinari sull'esistente, il che vuol dire che non c'è stato. Perché se io come coalizione di centrosiristi mi devo occupare di dire che devo fare la manutenzione ordinaria, vuol dire che la manutenzione ordinaria io non la riesco a vedere e non la riesco a toccare con mano. E se è così, vuol dire che non ci possiamo occupare di cose più importanti. O almeno in una prima battuta questo non lo possiamo fare. Me ne dispiace perché io sono comunque un cittadino montesilvanese. Io lavoro a Montesilvano, la mia famiglia cresce a Montesilvano. Tutte le cose che non funzionano a Montesilvano le paghiamo anche noi, ancorché in posizioni opposte da un punto di vista politico. Il nostro programma tiene conto principalmente delle cose che non hanno funzionato. E poi si avvia grandi soluzioni, ma sicuramente faremo modo di parlarne. Sicuramente, grazie fidanzo. Ottavio De Martins, prima di farle una domanda, non so se vuole replicare a quanto detto, visto che sollecitava. Magari unisco due aspetti. Rispondo al candidato del centrosinistra e faccio riferimento al nostro programma. Nel mio intervento iniziale ho parlato di quella che vuole essere la città ideale. Non ho detto che non si è fatto niente, questo lo dice il candidato Fidanza. Tanto è vero, e vengo al nostro programma, che nella premessa del nostro programma noi abbiamo rimarcato due aspetti. Il primo è che il programma ripartirà da quanto di buono è stato fatto in questi cinque anni, quindi perché tanto di buono è stato fatto. Il secondo aspetto è che vuole essere il programma sintomatico del rapporto che noi vogliamo avere con i cittadini. Un rapporto soprattutto leale, fatto di concretezza e non di false promesse. Noi abbiamo amministrato 5 anni, fidanza che un amministrato esperto sa quanto sia difficile amministrare, una città, oltretutto la terza città di Abruzzo, con le sole risorse cittadine. Le sole risorse cittadine hanno contribuito a che noi portassimo giovane la città, ma sicuramente aiuti provenienti, dico io, aiuti assolutamente legittimi, in quanto terza città di Abruzzo, in quanto importante centro dell'Abruzzo, avrebbero sicuramente aiutato. Voglio sottolineare, ritorno a quello fatto in questi cinque anni, che la vicina Pescara, a trazione centrosinistra, ha vissuto un momento finanziario difficile, come del resto l'abbiamo vissuto pure noi. Loro non hanno sfiorato il dissesto, lo hanno centrato il dissesto, noi abbiamo sfiorato il dissesto e l'abbiamo superato brillantemente e al tempo stesso abbiamo dato alla città tanto, tanto in termini anche di manutenzione. La manutenzione in genere tacciano la Lega quanto i 5 Stelle di essere partiti populisti, in questo caso il populista lo sta facendo il centrosinistra, nella misura in cui, pur sapendo le difficoltà che ci sono, parla di manutenzioni, parla di opere, ma le manutenzioni e le opere senza risorse economiche sono difficili da realizzare. Per questo motivo io sottolineavo all'inizio quanto invece votare centrodestra oggi significa avere anche un governo finalmente amico e un governo sicuramente attento alla nostra città, cosa che ad oggi non c'è stata. Questo non potrà che giovare al territorio, sicuramente in tutti gli aspetti, in tutti i punti che noi vogliamo portare avanti nel programma. Grazie Martini, qualche secondo e poi lo farò recuperare a fine trasmissione. Raffaele Panichella, torniamo a lei. Abbiamo visto come nel cappello introduttivo abbia parlato un po' dei temi che le stanno più a cuore, quindi sostenibilità, tutela del territorio, però a lei leggevo da qualche parte, è stato anche molto critico su Montesilvano, definendolo un non luogo, una sorta di dormitorio, quasi a servizio della città di Pescara. Quindi lavorerete anche per combattere le disuguaglianze sociali e per modificare questa città? Assolutamente, il tema delle disuguaglianze è un tema forte che va affrontato in maniera netta, decisa, chiara e concreta. Sì, io l'ho definito una città dormitorio, questa sorta di non luogo, perché è così che la percepisco ed è così che molte persone che conosco di Montesilvano, che poi magari lavorano a Pescara, quindi vivono poco la città, ma sono veramente tentanti, la sentono. Ecco, io vorrei un attimo però anche cercare di interroguire con quello che appena è stato detto, perché io francamente sono basito, io più mi tuffo in questa avventura e più sono veramente sbalordito da quello che sento. Perché qui c'è il candidato del centrodestra che ancora una volta, insomma, prima si lamenta che per cinque anni la città non ha ricevuto fondi, probabilmente è giusto, e adesso cerca e spera in una sponda con la regione che ha guida centrodestra, ma sfugge, e questo sfugge anche al, mi dispiace, ma anche al candidato di centrosinistra, sfugge invece il serbatoio da cui andare ad attingere risorse per restituire alla città il decoro che merita. Perché il bacino più grande da cui prendere risorse è la comunità europea. Qui ci sono dei fondi, quelli dei FESR e dei PON, Piano Operativi Nazionali, che hanno stanziato milioni di euro, anzi miliardi di euro. Vi do una notizia. Nell'agenda europea le aree metropolitane sono definite come i motori dell'economia europea e i catalizzatori di creatività e di innovazione. Questa è una notizia. Oh, ve lo faccio scoprire, ve lo sto dicendo. La comunità europea per questi progetti di innovazione nel campo economico, ambientale, climatico, demografico, sociale, ha stanziato un PON specifico, 2014-2020, 21 miliardi di euro e in prima battuta 80 milioni per affrontare subito il tema delle disuguaglianze, della povertà, dell'integrazione dei rifugiati, della transizione alle rinnovabili e dell'occupazione. Ok, quindi qui ci troviamo davanti a delle forze politiche che ignorano completamente quali sono i meccanismi per accedere alle risorse e poi si lamentano che la città è indecorosa, che non ci sono i soldi, che non si trovano risorse, ma se le risorse non sapete dove andarle a trovare è un problema di incompetenza, è un problema proprio di scarsa conoscenza delle dinamiche politiche europee. Questa è una regione, l'Abruzzo, che al 2019 ha utilizzato solo il 15% delle risorse europee, quindi ora in un anno si trova a dover fare progetti che non ci stanno peraltro per sfruttare quell'altro 85% di risorse, che invece sono disponibili. Questa è una città, Montesilvano, che poteva essere come Lugano se soltanto fosse stata amministrata nel modo giusto, nel modo corretto, nel modo in cui i cittadini sperano che venga amministrata. Enzo Fidanza, faceva riferimento lei alla manutenzione, al verde, allo stato di degrado della città di Montesilvano, quindi sarà uno dei vostri punti a riqualificare quelle aree più disagiate, quei quartieri che hanno bisogno di maggior intervento da parte dell'amministrazione pubblica. Sì, certo. Io intanto devo dire che il riferimento ai finanziamenti europei che fa il candidato di 5 Stelle è un riferimento che forse va rivolto al centrodestra che ha governato e non a noi. Noi conosciamo benissimo questi meccanismi e sicuramente li metteremo in atto. Ora, quello che invece mi preme sottolineare è quello che noi abbiamo come idea di ricostruzione del tessuto sociale, urbanistico e economico della città. Ci sono degli aspetti su cui l'attività amministrativa per le proprie competenze può fare qualcosa. Ci sono degli altri aspetti dove si può fare promotrice, si può fare parte attiva, ma non ha competenze specifiche. Io mi voglio fermare, che è già tantissimo, a quelle che sono le vere competenze dell'attività amministrativa del Comune di Montesilvano. Programmazione di grandi piani di manutenzione. Noi abbiamo un esistente, sia da un punto di vista orizzontale che verticale, quindi mi riferisco a verde, a strade e a costruito, di proprietà pubblica che ha bisogno di un piano straordinario di manutenzione. Parlo delle scuole, parlo degli edifici pubblici, parlo delle strade, quindi parlo del verde, che riconsenta e riconsegni alla città un luogo, per parlare proprio dei non luoghi, i luoghi sono quelli dove un cittadino si trova a proprio agio, perché è costruito ed è manutenuto ed è aggiustato, diciamo così, da un punto di vista estetico, in modo tale che possa essere vissuto e fruito. Montesilvano viene definito e continua a essere definito come una città senza identità. E noi è inutile che ci continuiamo a nascondere dietro questa cosa. Montesilvano non ha una responsabilità diretta sulla identità, sulla mancata identità, bisogna rincorrerla questa identità. Io l'ho detto anche in altre occasioni, lo ripeto ancora adesso, perché è importante che questo tema sia definito con chiarezza. Montesilvano non è la sulmona di turno, non è la lanciano di turno, non è l'antica capitale dei vestini, penne per parlare di un territorio che non è il più vicino. Montesilvano ha una storia recente, figlia di una necessità territoriale che è stata, diciamo così, pretesa da una città più grande che quella come Pescara. Ora questa identità, una volta che questo sviluppo si è già consumato, va ricostruito, ma ci vuole un percorso culturale. Non lo possiamo ricostruire immaginando di costruire un luogo fisico senza un percorso culturale. Queste due cose vanno messe assolutamente insieme, perché altrimenti ci continueremo a sciacquare la bocca con termini di Montesilvano non luogo, Montesilvano non luogo, senza che gli diamo quello che sicuramente gli dobbiamo dare. Noi a Montesilvano possiamo evitare di dargli un luogo, quello che non possiamo evitare di dargli è il decoro urbano, il decoro del mondo della scuola e dei suoi edifici. Sono tutti luoghi dove crescono le nuove generazioni, dove si formano le nuove generazioni, perché nei parchi ci vanno i bambini e nelle scuole ci vanno gli adolescenti che si formano. Loro sono la nuova società che ci appartiene e nei confronti delle quali abbiamo responsabilità. Grazie fidanzo. Allora dopo questi due giri per conoscere meglio i tre candidati a sindaco al comune di Montesilvano ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, torneremo subito dopo in studio, sempre qui su Rete8 e riprenderemo questo giro con il candidato a sindaco del centrodestra Ottavio De Martinis. Bene, torniamo nuovamente in studio per questa speciale elezione dedicata ai candidati a sindaco al comune di Montesilvano, lo abbiamo preannunciato prima della pausa pubblicitaria, riprendiamo con il candidato a sindaco del centrodestra Ottavio De Martinis. De Martinis, molto è stato fatto in questi cinque anni, ha sottolineato lei, deve essere fatto altrettanto per recuperare la città di Montesilvano. Tra le cose fatte mi viene in mente non solo lo sgombero di via Ariosto a Montesilvano che era una di quelle piaghe che la cittadinanza percepiva di più anche in termini di sicurezza. Lo SPRAR è stato anche uno strumento che avete dimostrato abbia funzionato. È così De Martinis? Assolutamente sì. Mi consenta di fare un inciso su quanto detto dal candidato dei Cinque Stelle. Ricordiamo perché è andata alla pubblicità qualche d'uno magari si è messo all'ascolto soltanto adesso. Riprendo dalla definizione, più che dal non luogo, dal termine basito. Io rimango basito invece dalla facilità con la quale si pensa di poter governare una città. Probabilmente questo è sintomatico di quanto non avendo un'esperienza governativa e amministrativa il candidato non abbia idea di cosa significa governare una città e soprattutto, dottolineo ancora, governarlo con le sue forze cittadine. Detto questo, e riprendo la sua domanda, uno dei punti sui quali batteremo sicuramente noi, tant'è che il primo punto del nostro programma è quello legato alla sicurezza. Una località che vuole avere una vocazione turistica non può prescindere dalla sicurezza territoriale, che comunque non è soltanto rivolta alla vocazione turistica, ma la sicurezza è quello che poi manca ed è mancata in gran parte del nostro territorio in questi anni. A tal proposito, un problema molto grande, sia da un punto di vista prettamente turistico, perché il ghetto di Via Rosto si trovava in una posizione di pregio da un punto di vista turistico, era quella di attività illecite che all'interno di questo ghetto si portavano avanti. Dopo 30 anni, lo sottolineo, di assenza da parte dell'amministrazione, nella misura in cui nessuno aveva fatto niente, noi abbiamo sgomberato il ghetto e al tempo stesso abbiamo iniziato un percorso, dico io, di accoglienza che ha salvato la nostra città da un'invasione che era in corso. Noi avevamo due casse sul territorio, due centri di accoglienza straordinaria, oltretutto in due strutture alberghiere della città, riprendendo il discorso turistico, possiamo immaginare quanto questo fosse nefasto. Abbiamo sostituito questo sistema con un sistema molto diverso, un sistema che intanto ha ridotto il numero delle presenze dei migranti sul territorio, ma soprattutto che ha dato a questi migranti presenti sul territorio una vera accoglienza, un'accoglienza fatta di ospitalità, ma soprattutto di un percorso volto a integrarli sul nostro territorio, cosa che con i casse non era assolutamente la stessa cosa. Certo, grazie De Martinis. Panichella, Montesilvano abbiamo visto che è una città che basa moltissimo sul turismo, un turismo largamente familiare, sono cresciute le presenze nel corso degli ultimi anni. Da architetto lei però ha un occhio maggiormente sensibile al territorio, c'è una sorta di scollamento tra la riviera e la zona centrale della città, il cuore pulsante dove ci sono gli uffici e le attività commerciali. Voi avete nel vostro programma inserito qualcosa per legare queste due zone della città e soprattutto per rilanciare ulteriormente il turismo. E se sì, quali? Sì, beh certo, abbiamo nel nostro programma comunque allineato una serie di iniziative che speriamo riescano in qualche modo a riconnettere il tessuto urbano e sicuramente io da architetto potrò in qualche modo dire la mia e magari dare un'indicazione, quindi non solo una linea politica ma anche una linea tecnica. Ecco io però un attimo mi consenta, devo così approfittare dell'occasione per ribadire ancora un'altra volta quanto questo tema dell'inesperienza sia veramente forse a volte, cioè si può trasformare in un boomerang per chi continua ad accusare noi del Movimento 5 Stelle di inesperienza. Ecco io sono convinto che l'esperienza è un fattore determinante nella vita di ognuno di noi, nel nostro lavoro, in quello che facciamo, non si può affrontare nulla senza avere una buona dose di esperienza. Però questa esperienza vale zero quando non è affiancata da una visione, da un modo diverso di vedere le cose, perché altrimenti finisce come finisce sempre, cioè che le solite persone che stanno lì da anni continuano ad affrontare dall'alto della loro esperienza i problemi e le situazioni nel solito modo con cui sono abituati a fare. Io qui nel mio intervento precedente ho citato dei dati ben precisi, dati che fanno il match con l'esigenza di annettere Montesilvano alle altre due città e quindi l'esigenza di dare corso alla Nuova Pescara, alla Grande Pescara, a quest'area metropolitana. Voglio dire, le forze politiche in questi anni, compreso il centrosinistra, perché la giunta di Pescara era di centrosinistra, hanno tranquillamente proprio sonnecchiato, non hanno dato corso ad un referendum invece che in maniera netta e chiara, sette persone su dieci hanno detto noi vogliamo la Grande Pescara. Quindi né centrodestra a Montesilvano né centrosinistra a Pescara hanno dato corso a questo progetto che invece avrebbe consentito di trovare le risorse economiche per finanziare tutto, per quindi fare in modo che la città fosse più decorosa, per dare lavoro, quindi avviare un circolo virtuoso di situazioni. Mi spiego meglio e porto a conoscenza dei cittadini alcune cose che i cittadini ignorano, perché la costituzione delle grandi aree metropolitane consente alle città che derivano di poter usufruire di tutta una serie di vantaggi. Voglio ricordare l'articolo 1,132 della legge 156-2014 che stabilisce una cosa importantissima. La città derivante dalla fusione, quindi qui non parliamo di una fusione, quindi tre città che ne diventano una, ecco, la città derivante esce dal regime giuridico del predissesto. Oh, attenzione, cioè Pescara, città in predissesto, che ha vessato i propri cittadini con delle imposte altissime, fatto una fischio per altri 30 anni per pagare questa cambiale e soprattutto ha ridotto i servizi, ecco, magicamente, soltanto costituendolo la città metropolitana, si usciva dalla situazione di predissesto con un evidente riverbero e riflesso anche per tutta la comunità. È chiaro il ragionamento, grazie Panighella. Poi magari parleremo ancora della Grande Pescara perché è uno dei temi, è un tema ovviamente centrale in questa campagna elettorale. Sicuramente, anche perché si arriverà poi ad amministrare in questo modo. Fidanza, torniamo alle necessità di Montesilvano. Avete stilato un vostro programma, i punti qualificanti e quelli più caratterizzanti che interessano la vita quotidiana dei cittadini in Montesilvano affinché si torni, come dire, a viverla con maggior partecipazione, con maggior convinzione. Sia quasi che sia una città un po' distratta, Montesilvano. Sì, allora, del punto principale abbiamo già parlato, non ci torniamo. Da un punto di vista programmatico, io intanto penso che la città che storicamente è divisa in quartieri storici, Montesilvano, ha bisogno, c'è la parte del Colle, c'è la parte del lungo di Via Vestina, poi ci sono i quartieri storici, quindi Santa Filomena, Villa Verrocchio, il centro di Montesilvano. Questi sono luoghi all'interno dei quali esistono dei pezzi di città che solo se con una grande dedizione, ma anche con una visione da un punto di vista organizzativo e programmatico, possono riqualificarsi nel loro seno, soltanto andando a toccare alcune questioni. Posso fare degli esempi? E mi viene in mente di come noi possiamo, toccando anche qui l'aspetto turistico e non solo, c'è un luogo lungo il mare storicamente bellissimo che è quello della Stella Maris, il cosiddetto aeroplanino. Ora questo aeroplanino, c'è stato un periodo in cui addirittura il centro-destro governava la provincia di Pescari in cui l'idea programmatica sull'aeroplanino era di costruirci un pattinodromo a fianco. Io per quello che ho potuto fare in quel periodo mi sono battuto affinché questa cosa non accadesse e il progetto c'era, c'erano anche i finanziamenti, quindi una visione catastrofica per quel luogo. Eppure c'era qualcuno che pensava che si potesse fare questo. Comunque quell'aeroplanino da questo scatolone, pattinodromo, si è salvato. Adesso però è ancora lì. La questione è che visione abbiamo di quel luogo? Perché non si tratta soltanto di salvare l'aeroplanino ma di salvare anche la sua potenziale identità turistica e quindi di salvarla anche per la parte di città che lo ingloba, in sé, che è la zona centrale di Villa Verrocchio. Salvarlo significa intanto agganciarlo a un percorso turistico, ad un percorso rinnovato, visto in maniera diversa del Palacongressi, con la grande ricettività alberghiera. Ci sono altri luoghi tipo Villa Delfico. Io ho un'idea su Villa Delfico, ma questa idea di immediata fruibilità uno ce l'ha anche e soltanto e non soltanto spendendo un sacco di soldi. Perché tante volte nella vita amministrativa non è necessario spendere tanti soldi per dare delle risposte, ma bisogna partire dalle piccole risposte. Per esempio a Montesilvano Colle noi abbiamo un auditorium che è stato realizzato nel vecchio cimitero, nello storico cimitero, che è lì, chiuso da anni, non si capisce perché, cioè nessuno fa qualcosa e nessuno fa niente per tornare a renderlo vivo. Sono tanti piccoli pezzi di città, tante piccole cose all'interno della città che possono essere riqualificate e ridate alla città dentro a quel meccanismo più grande di decoro di cui parlavamo prima. Poi ci sono tanti altri punti programmatici che spero in un altro giro andremo a toccare perché è chiaro che non ci possiamo fermare soltanto qui. Certo. Ottavio De Martini, se vengo a lei, parlava a fidanza di luoghi simbolo della città di Montesilvano come l'ex colonia Stella Maris, ma non solo. Ecco, come riqualificarli per non dare quella visione, quella sensazione di abbandono di un territorio perché chi transita quotidianamente ma anche per chi viene da fuori, il turista che vede queste strutture abbandonate può avere una sensazione della città un po' abbandonata. Come intervenire? Allora, rispondo intanto e do una notizia al candidato a fidanza anche se mi appare strano che lui non conosca una situazione per la quale l'auditorium di cui parlava per essere fruibile necessita un intervento pari a 400 mila euro. È stato qualificato a... Parliamo dell'auditorium Cianfaranti. ...di Montesilvano Colle nella misura in cui non presenta una tettoglia che potrebbe essere un discorso anche acustico, non presenta delle difficoltà per le quali da stima fatta anche durante il periodo in cui fidanzia l'assessore c'erano 400 mila euro di intervento per rendere quella struttura fruibile al 100% ma non solo. C'è un problema di parcheggio perché se di luogo dove portare avanti gli eventi e quindi ospitare delle persone questo non può non essere accompagnato da un parcheggio essendo poi oltretutto quel luogo in curva, in piena curva quindi ci sarebbero bisogno di altri soldi per rendere fruibile l'aria antistante. Questo per dire quanto è vero che le idee si possono dare alla città senza soldi tanto penso per esempio all'Isola Pedonale che con pochi soldi noi abbiamo reso per 5 anni un luogo dove la sera finalmente i cittadini e i turisti possono passeggiare in regolità e godere del lungomare di Montesilvano e non soltanto cittadini ma anche parecchi abitanti dei comuni limitrofi hanno apprezzato tanto l'idea tant'è che si sono riversati sul nostro territorio ma è vero pure, come dicevo all'inizio che senza risorse poi non si possono prendere in giro i cittadini e tante cose non si possono fare. Di idee parlavamo e di idee collegandomi alla Stella Maris voglio parlare nella misura in cui noi abbiamo presentato un progetto che aveva le gambe per camminare che addirittura è stato, per il quale è stato firmato un protocollo d'intesa la presenza dell'ex, per fortuna, governatore D'Alfonso e l'allora ministro Giannini relativamente alla sede, una succursata dell'Accademia delle Belle Arti di Roma che una volta firmato questo protocollo d'intesa è stato purtroppo relegato in un cassetto e lì giace e a questo progetto se ne è seguito un altro che però ad oggi non ha avuto seguito da parte del centro-sinistra che voleva vedere quella struttura diventare convitto e sedere l'alberghiero con tutto il rispetto per l'alberghiero ragioniamo in termini di idee di ritorno per la città noi pensiamo che un progetto che aveva le gambe per camminare come quello di un succursale dell'Accademia delle Belle Arti avrebbe portato alla città molto più molto più in termini turistici e non solo di un convitto di un semplice convitto di un alberghiero che sicuramente ha una valenza ma la ha soprattutto a livello prettamente territoriale Grazie Martinis Panichello, una curiosità sulla Stella Maris voi che idee avete? Insomma è un tema interessante sicuramente un edificio storico con una valenza importante bisognerà valorizzare al meglio valorizzarlo al meglio anche perché è in una posizione strategica proprio sul mare per cui è sicuro che è un edificio su cui bisogna convergere a livello attenzionale e anche con gli altri attori coinvolti nella sua gestione nella proprietà trovare una soluzione che allo stesso tempo dia immagine alla città e quindi crea comunque un momento forte e sia anche un polo di attrazione turistica perché è proprio sul lungomare quindi immediatamente fruibile da tutti però al di là delle idee io qua voglio un attimo rimettere il focus su una cosa importante l'hanno appena detto anche loro senza soldi non si cantano messe ok? il bilancio comunale non consente di fare slanci tali da poter restituire decoro alla città da poter fare opere di manutenzione stradale opere di manutenzione agli edifici di proprietà comunale ecco noi vogliamo che invece questi soldi si trovino laddove non sono stati mai cercati per fare questo bisogna intanto dare corso alla grande pescara e la cosa che peraltro mi meraviglia e sono rimasto meravigliato l'altra sera vedendo Masci candidato del centrodestra quindi diciamo della stessa parte politica del candidato Fidanza dei Martinis perdonatemi e lui ha detto no io sono per la grande pescara attenzione questa è una notizia com'è? cioè qui parliamo di due coalizioni stessi partiti che la compongono che praticamente vivono a poche migliaia di metri di distanza qui si ragiona in termini di metri non di chilometri sono due città attaccate fisicamente non divise non c'è un confine ecco due candidati che hanno una visione completamente diversa su uno stesso problema quindi io non lo so cioè si sono perse energie in queste settimane per trovare posti spostamenti tutti sono diventati leghisti sui generis scambi di poltrone vediamo come occupare troviamo i candidati Forza Italia a Pescara la Lega a Montesilvano e poi non c'è stato un pomeriggio per vedersi tra queste due forze politiche e convergere su questo tema cioè io lo trovo veramente allucinante perché la politica deve essere al servizio dei cittadini e converge sui problemi dei cittadini dedicare energie e risorse a questo qui tutti i temi che noi vogliamo affrontare ambiente territorio turismo sono tutti legati qui ormai nel mondo si parla di smart city di città in cui città intelligenti in cui il grande tema dell'innovazione tecnologica della pianificazione urbanistica dell'innovazione dei servizi sociali è un tema che viene visto in maniera globale compressivo e viene tutto messo in rete relazionato con l'intelligenza cittadina e questo attraverso l'utilizzo di tecnologie nuove che forse sono proprio sconosciute a queste forze politiche così vecchie che non riescono a vedere un mondo nuovo che va in una direzione completamente contraria noi vogliamo andare in quella direzione in una direzione dell'ambiente della innovazione sotto il profilo delle rinnovabili è molto di più torneremo dopo a parlare anche di abilità sostenibile di collegamenti con pescare non solo nell'area metropolitana Enzo Fidanza torniamo a lei per completare il discorso sul programma aveva già portato avanti i punti programmatici voleva completarlo allora da un punto di vista torno sul turismo mi piace riprendere un argomento che ha toccato il candidato del centrodestra De Martini poi toccherò anche dei 5 Stelle il turismo il lungomare Montesilvano urbanisticamente ha una particolarità ha una grande cerniera verde che è quella della Pineta ora questa Pineta o urbanisticamente e quindi ai fini turistici nel periodo estivo viene vissuto come una cerniera in termini positivi e quindi rilancia positivamente quel luogo oppure diventa una barriera al di là della sua importanza da un punto di vista ambientale che nessuno mette in discussione io dico solo che quella cerniera se non la facciamo diventare una questione all'interno della quale si rilanci il turismo estivo noi non possiamo continuare a pensare che da un lato abbiamo tutte le strutture ricettive che siccome di fronte hanno il vuoto quando la sera si fa sera e allora loro non hanno avete già delle idee fidanza? certo noi avevamo già cominciato con l'amministrazione prima di quella che adesso è uscente a fare un ragionamento che era che incernierava la parte della città con la Pineta esistono sono ancora gli unici due piccoli due piccoli segnali retro Pineta che sono diciamo così dei casottini in legno da un punto di vista commerciale che hanno avuto e continuano ad avere perché esistono e continuano a funzionare che incernierano l'attività commerciale retro Pineta con la fruibilità della Pineta perché se a noi alla Pineta non gli ridiamo una fruibilità vera non soltanto giornaliera che significa anche manutenzione automatica che significa tante altre cose quella continua a diventare una barriera e a quel punto è inutile che noi chiudiamo al traffico il lungomare perché il lungomare per chiudere il traffico è per renderlo appetibile a chiunque ci viene anche come giustamente dice De Martini probabilmente da fuori Montesilvano però poi qualcosa in questo luogo lo deve trovare non può soltanto fare il footing lento cioè la passeggiata da un punto di vista quindi programmatico noi riteniamo che la Pineta vada riqualificata da un punto di vista della sua potenziale fruibilità altra cosa importante è quella di identificare nella zona dei grandi alberghi un luogo simbolo un simbolo io ricordo ma probabilmente lo ricordo forse non lo ricordo il candidato di 5 Stelle ma non per fargli un torto ma perché è così lui Montesilvano non la conosce quindi non è che al di là dell'esperienza che non c'entra niente non è per ma per dire che adesso parlo di una cosa di cui lui probabilmente Montesilvano nella zona dei grandi alberghi ha avuto un simbolo che ha girato in tutto il mondo negli anni 70 negli anni 80 il mulino che era il mulino questo mulino è un riversai lo ricorda anche lei giustamente questo simbolo io dico ma ci vuole tanto a riposizionarlo tra i nostri progetti c'è quello di riposizionarlo nel sedimento di proprietà pubblica oltre la rotonda alla fine dei grandi alberghi che sarebbe lì a riposizionarsi come era un tempo ed è già un simbolo sarebbe molto suggestivo sarebbe molto suggestivo ma bisogna avercela questa idea non è che costerebbe tanto sicuramente sicuramente poi torneremo anche a parlare di isola pedonale sul lungomare mi fa sapere se le piace come esperimento oppure no un esperimento che voi ritenete invece vincente Ottavio De Martini è quello dell'inibire la viabilità veicolare la sera non solo riteniamo vincente ma io sono sicuro che qualora non fossimo noi a vincere lezioni qualsiasi candidato la riproporrebbe nel corso dell'estate perché è stata un'idea a detta di tutti vincente nella misura in cui intanto ha fornito uno spazio dove poter come dicevo prima tranquillamente trascorrere le serate godendo del lungomare ma non solo aggiungo perché con poche risorse tutte le sere comunque a Montsilvano e sono stato io l'assessore competente tutte le sere c'erano comunque le possibilità di svagli con spettacoli teatrali spettacoli musicali e ribadisco tutte le sere perché l'idea che ho io degli eventi l'idea che ho avuto e che vorrei riproporre nella misura in cui è stata vincente è quella di supportare poi il tessuto economico cittadino non con due tre eventi anche se grandi fini a se stessi ma ragionare proprio nella continuità sottolineo un aspetto gli nostri alberghi hanno dei pacchetti che prevedono la permanenza settimanale dei turisti quindi noi abbiamo cercato tutte le sere di far sì che i turisti che vengono sul nostro territorio possano godere ogni sera di uno spettacolo diverso e penso che questa sia un'idea vincente che sicuramente riproporremo sia per quello che riguarda la chiusura al traffico veicolare ma anche per quello che riguarda gli eventi serali detto questo se mi si consente io voglio rimarcare anche quanto l'amministrazione centrodestra in questi anni alla luce del referendum sulla Grande Pescara non ha sonnecchiato ha dormito profondamente e in questi ma c'è un motivo ben preciso noi siamo assolutamente contrari alla Grande Pescara io sono l'unico candidato che non vuole questo progetto che sicuramente è stato voluto da un referendum da un istituto che come dicevo in altra sede è un istituto molto importante che dà la possibilità ai cittadini di scegliere rispetto a determinati temi ma che un referendum che 5 anni fa è stato assolutamente inquinato da che cosa? da una scarsa conoscenza di quello a cui si andava incontro e dalla presenza di 4 schede fornite ad ogni elettore perché di 4 schede si trattava europee, regionali comunali e referendum e io ritengo che su un argomento così importante si sarebbe dovuto dare molto di più molto più spazio sia la propaganda alla propaganda relativamente al sì o al no e motivo per il quale noi per questo motivo riteniamo inquinato il referendum e quindi assolutamente magari da rifare ma nella misura in cui è stato il sì bisognerebbe ragionare su oggi su quanto questo sì possa essere nefasto per il nostro territorio poi mi si dice Carlo Masci è d'accordo alla Grande Pescara allora si parlava prima di diversità e di diversità anche di idee non è scontato che per una una pertenenza politica anche all'interno di una coalizione se ci sono dei pareri che sono contrastanti io penso che non ci sia nulla di sbagliato nella misura in cui ognuno difende una propria idea e un proprio territorio io difendo il territorio di Montesilvano e come tale io ritengo che Montesilvano debba mantenere una propria identità una propria autonomia e la propria storia perché se si parla di Riverside e quindi di Mulino se si parla di Pineta se si parla di Stella Maris poi alla fine mi sembra cozzare il discorso per il quale invece poi si vuole annullare una storia e un'identità per diventare in questo caso un luogo non luogo grazie perfetto è chiaro il discorso il ragionamento l'ho dato qualche secondo in più proprio perché in precedenza ne aveva qualcuno da parte grazie Panichella torno a lei proprio perché come Movimento 5 Stelle avete ribadito più volte di essere vicini ai cittadini di voler combattere le disuguaglianze come farlo? perché votare 5 Stelle? lei si rivolge all'elettore in questo momento che sta seguendo la casa per convincere a votarla ma perché votare 5 Stelle mi sembra abbastanza evidente perché noi abbiamo una linea politica chiara netta precisa e intendiamo raccontare ai cittadini la verità e non riempirli di belle parole che poi restano parole perché è la verità no? cioè quando si arriva sotto elezioni puntualmente tutti sbandierano i programmi più belli di tutti qualcuno la sinistra cerca anche di inseguirci un po' sul piano del populismo cioè della serie togliamo il gettone di presenza dei consiglieri comunali cioè cose che sembravano temi del Movimento 5 Stelle sì su scala nazionale e regionale ma ovviamente non su scala comunale altrimenti può fare il consigliere comunale solo chi vive di rendita perché ovviamente dovendo trascurare la propria attività lavorativa o sia un dipendente pubblico come me oppure è un'attività che non si può fare i cittadini ci hanno riconosciuto in questi anni devo dire coerenza onestà di veduta e soprattutto visione una visione diversa ecco parlando un pochino più nello specifico di programmi quando noi parliamo di visione diversa diciamo che tutti questi temi che sono stati trattati anche qui adesso sono tutti temi che sono fortemente interconnessi tra di loro perché ad esempio il tema del decoro va ad impattare fortemente sul turismo perché ciascuno di noi quando va in una città turistica ci torna se la trova bella accogliente non soltanto se mangia bene in un ristorante o se trova un bel albergo dove soggiornare ma ci torna se ha l'idea di essere in un posto che è un posto gradevole da visitare che è ricco di luoghi di interesse quindi qui la necessità di creare dei poli di attrazione che appunto dei luoghi che diventino dei luoghi di aggregazione urbana dove il turista possa anche andare a mangiare un gelato o ascoltare un concerto e qui anche ovviamente l'esigenza di creare tanti eventi che poi hanno un riverbero anche sul commercio quindi si innesca affrontando i temi nella loro complessità e mettendoli tutti in rete si innesca quel circolo virtuoso che pian piano fa uscire una città dall'isolamento in cui si trova a me sembra che si difendano posizioni proprio di stampo medievale cioè il mondo va in una direzione ma noi come vogliamo convincere i turisti tedeschi a venire a Montesilvano quando hanno qui di fronte la Croazia che offre tutt'altro genere di attrattività turistica quindi dobbiamo fare in modo di intercettare la domanda senza rimanere su posizioni che si ricordano quasi il campanilismo di paese e non una città appunto la terza città d'Abruzzo comportiamoci come tali siamo una grande città una grande area metropolitana ci sono contesti su cui lavorare che ci consentirebbero nel giro di poco con iniziative anche semplici di uscire da questo tunnel uscire fuori anche dal predissesto e di investire nella città investire nella città non soltanto in termini proprio fisici ma in termini di idee il comune quando sarà o sindaco tornerà a essere un incubatore di idee sarà al fianco dei cittadini delle imprese di chi vorrà fare di chi vorrà progettare una città nuova e crearsi nuove opportunità di lavoro grazie grazie Panichella fidanza una città dove ci sono ancora molte aree che hanno bisogno di essere rimesse in ordine vicino ai grandi alberghi retro la stazione ferroviaria per evitare una cementificazione che vada ad appesantire questa città che magari nei decenni passati ha visto un'urbanistica un po' disordinata che cosa fare qual è la visione del centro-sinistra per offrire come dire una città più appetibile anche dal punto di vista turistico economico commerciale da un punto di vista turistico noi abbiamo già detto abbiamo già parlato di alcune idee che sono idee simboli che sono idee da un punto di vista della della oggettiva riconoscibilità da parte di chi arriva ora se noi andiamo alla ricerca della domanda noi dobbiamo migliorare l'offerta non dobbiamo cercare la domanda se non miglioriamo l'offerta e per migliorare l'offerta dobbiamo fare alcune attività tra le quali rispetto alla domanda che lei mi poneva c'è quella di recuperare pezzi di città non soltanto dal punto di vista del decoro perché abbiamo già detto non ci voglio tornare pezzi di città che da un punto di vista urbanistico possono essere recuperate attraverso strumenti che già esistono e che devono essere messi in piedi attraverso un'attività sinergica di cui l'attività comunale si deve far carico ed essere promotrice da un punto di vista del rapporto tra legislazione finanza attività amministrativa che autorizza se non si mettono in piedi questi meccanismi per livello economico in cui e l'economia in generale e il settore dell'edilizia in particolare non solo naturalmente a Montesilvano ma a livello nazionale alcuni pezzi di città che sono non recuperati non voglio dire integrati che sono non recuperati attualmente resteranno non recuperati bisogna fare qualcosa non per consumare altro territorio ma per recuperarne di pezzi di territorio in maniera completamente diversa dando strumenti e dando naturalmente tra virgolette premi finanziari ed economici a chi interviene verso quella direzione la città ha bisogno di queste attività perché altrimenti non riesce a recuperare pezzi di città tra l'altro anche in zone centrali certo è un percorso lungo è un percorso che se però nessuno avvia veramente nessuno mai si ricorderà che è arrivato a compimento poi c'è anche un altro aspetto programmatico questo da un punto di vista urbanistico quindi consumo dei territori assolutamente zero vanno recuperati soltanto gli spazi da un punto di vista del sociale io ho già detto più di una volta che da un punto di vista del sociale va potenziata la struttura che ormai Montesilvano possiede che è l'azienda speciale che tanti servizi da a chi ne ha bisogno e tanti servizi dovrebbe continuare a dare potenziando la stessa struttura ma siccome e qui sono d'accordo noi dobbiamo continuare a fare i conti anche con le risorse non possiamo immaginare che riusciamo a dare servizi sine idee a chi che sia dobbiamo quindi trovare anche sinergie diverse quale possono essere sinergie diverse nel mio programma nel nostro programma c'è l'idea di mettere in sinergia un mondo che esiste e che è veramente la terza stampella di questo paese paese Italia che è quello del volontariato il volontariato ormai è una realtà grande io continuo ad incontrare ma non soltanto in questa campagna elettorale ma nella mia vita professionale e privata sempre più persone che danno il loro tempo come se ci fosse una banca del tempo a cui lui regala del tempo alle attività sociali alle attività di aiuto a chi ne ha bisogno queste sinergie tra sociale e azienda speciale volontariato messe insieme in rete come? con un'attività sinergica del comune di cui si deve far carico proprio perché non riesce a rispondere con risorse finanziarie infinite a tutte le domande un'attività alternativa grazie fidanza noi ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria torneremo subito dopo per un ultimo giro con i candidati sindaco al comune di Montesilvano tra poco subito dopo la pubblicità vi aspetto eccoci tornati nuovamente in studio per l'ultima parte di questo speciale elezioni dedicata al comune di Montesilvano come è noto il 26 maggio prossimo si voterà per il rinnovo del consiglio comunale e non solo si voterà anche per le europee a Montesilvano saranno chiamati alle urne oltre 40.000 elettori che esprimeranno le proprie preferenze nelle 52 sezioni dislocate sul territorio riprendiamo questo giro di consultazioni per conoscere ancora meglio i tre candidati sindaco con il candidato del centrodestra Ottavio De Martinis De Martinis abbiamo visto come amministrare una città sia davvero difficile quando le risorse sono davvero poche esigue e le necessità sono davvero tante allora come offrire qualità nei servizi soprattutto pensare al benessere dei cittadini facendo i conti quotidianamente con queste ristrettezze per i prossimi 5 anni qualora doveste tornare a governare la città che cosa avete pensato? Ripartirei dal sottolineare quanto in questi 5 anni in realtà tanto è stato fatto nonostante le difficoltà sono stati toccati tanti temi durante la trasmissione legati al sociale il tema della sicurezza il tema dell'ambiente il tema del turismo in tutti i settori noi abbiamo veramente dato tanto nonostante le difficoltà e in ogni settore noi vogliamo ripartire da dove quello che si è fatto brevemente magari do qualche perché ci sarebbe tanto da parlare ma do qualche spunto di riflessione ai cittadini in modo tale che loro possano in qualche modo sapere le linee programmatiche del centro-destra in tema di ambiente in questi anni non si è ovviamente si è fatto un lavoro volto a tutelare il territorio nella misura in cui riteniamo che il territorio anche da un punto soprattutto da un punto di vista turistico debba essere tutelato per poter dare poi tutte quelle ricchezze poter rendere fruibili tutte quelle ricchezze compresa la riserva sicuramente di cui parlava il candidato finanza in tema di abbiamo lavorato affinché le acque soprattutto le nostre acque fossero balneabili e fossero fruibili si è lavorato anche sul fiume nella misura in cui si è messa in sicurezza la discarica di Villa Carmine si sono fatti interventi sul depuratore ma soprattutto noi abbiamo un grande merito che è quello di aver debellato un fenomeno che purtroppo negli anni ha portato anche a effetti nocivi per l'asse fluviale per le acque del fiume ossia degli scarichi abusivi che per anni sono stati non dico taciuti ma sono stati non monitorati e quindi hanno provocato poi quello che ne consegue noi abbiamo fatto dei controlli per il tramite di associazioni e vengo al tema del volontariato le associazioni ambientali volontarie che hanno scoperto tanti scarichi abusivi e tanti che poi sono stati ovviamente denunciati e insomma eccessati e continueremo attivando una stazione di monitoraggio volta proprio al controllo sistematico del 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 fiume degli argini del fiume fiume che noi vogliamo rendere una risorsa nella misura in cui fino ad oggi è stata purtroppo un problema e rendere questo problema appunto una ricchezza per il nostro territorio e pensavamo a delle passeggiate ambientali volte ai calisti volte alle scuole volte ai ragazzi alla scoperta della fauna della flora fluviale ma anche a delle passeggiate in canoa che possono diventare un'attrattiva per il nostro territorio questo in tema di ambiente ovviamente continueremo un percorso che abbiamo iniziato che ha già portato sul nostro territorio una bandiera verde per diversi anni la bandiera gialla dello scorso anno e vogliamo assolutamente continuare in questi anni un percorso che ci auguriamo possa portare alla bandiera blu bene architetto Panichella Montesilvano diceva lei una città dinamica c'è gente che si sposta quotidianamente nelle ore di punta con le automobili quindi la necessità di servizi urbani servizi alternativi di mezzi alternativi proprio per contenere l'inquinamento per contenere tanti altri disagi c'è una strada parco che ancora viene utilizzata che cosa il Movimento 5 Stelle ritiene si debba fare qualora gli elettori dovessero premiarvi in tema di mobilità sostenibile il tema della mobilità è veramente forse la parte più interessante e anche più innovativa del nostro programma perché poi il tema della mobilità si porta dietro una serie di altre situazioni sotto il profilo appunto dell'ambiente della salute dei cittadini ecco voglio ricordare che la Commissione Europea con un rapporto il 501 del 2016 ha individuato nella mobilità urbana nel traffico urbano la principale causa di inquinamento atmosferico quindi è evidente che i problemi di mobilità di traffico si portano dietro non soltanto il fastidio che proviamo quando siamo fermi al semaforo o quando vorremmo arrivare velocemente a casa la sera e troviamo dei veri e propri colli di bottiglia in alcuni punti della città ma si porta dietro il problema ben più grave dell'inquinamento perché le macchine sono ferme in moto inquinano e il problema dell'inquinamento a cascata va a impattare fortemente sulla qualità della vita dei cittadini perché l'inquinamento e in particolare il PM10 che viene liberato dagli scarichi delle automobili è ovviamente una delle principali cause di malattie veramente di cui ci spaventa anche solo pronunciare il nome malattie cardovascolari tumori o malattie neurologiche e questo è un grido di allarme che gli scienziati di tutto il mondo stanno dicendo e la Commissione Europea in quel rapporto che citavo ha appunto invitato tutti gli stati membri ad operarsi in modo tale che i problemi di traffico siano risolti siano depotenziate le vetture siano depotenziati i mezzi sia pubblici che privati e si vada ad un incontro ad una mobilità più sostenibile una mobilità in cui ci sia più spazio per la cosiddetta mobilità dolce quindi spazi dove poter andare in bicicletta quindi piste ciclabili spazi dove poter andare anche a piedi mobilità con le biciclette elettriche vetture elettriche è ovvio che per fare tutto questo il comune deve diventare veramente deve dare un impulso forte anche ad esempio nell'installazione di colonnine per la ricarica elettrica delle vetture e su questo può incidere in maniera molto molto forte semplicemente subordinando il rilascio di nuove concessioni edilizie o semplicemente anche di titoli abilitativi per ristrutturare un'abitazione appunto alla realizzazione di colonnine pubbliche di ricarica per le macchine elettriche peraltro ci sono proprio in queste settimane il governo per effetto di un'iniziativa del momento 5 stelle è riuscito a stanziare vale anche per Montesilvano perché città sopra i 50.000 abitanti 140.000 euro per primi lavori di efficientamento energetico sia degli edifici comunali che proprio dell'impiantistica quindi immediatamente il comune potrà avere diciamo nel giro a stretto giro queste risorse e potrebbe impiegarle per appunto favorire la diffusione di veicoli a mobilità elettrica bene grazie Panichela fidanza lei è un uomo di cifre di numeri revisore dei conti commercialista quindi ha a che fare anche con temi legati alla fiscalità qual è la visione del centro-sinistra per quanto riguarda ecco la tassazione fornire servizi ai cittadini quali gli indirizzi che pensate di dare nei prossimi 5 anni qualora doveste essere alla guida del comune da un punto di vista tributario io credo che i comuni non il comune di Montesilvano i comuni in Italia sono stati spinti verso una tassazione diciamo così derivata dal fatto che i trasferimenti statali nel corso degli anni si sono sempre più assottigliati i comuni hanno avuto in mano lo scettro da parte dello Stato in cui si era praticamente consegnato al comune stesso la potestà impositiva io ti faccio la legge e tu riscuoti questo sistema fin quando è semplicemente riscossione pura è una riscossione e quindi il comune così come lo faceva una volta per la spazzatura la vecchia tarsu e lo faceva per l'acqua avrebbe potuto continuare a farlo anche per altri tributi se non spinti all'esasperazione quindi con le cosiddette aliquote massime i comuni oggi hanno grande difficoltà nel fare una politica finanziaria riescono a farlo probabilmente un po' sui cunei delle aliquote di IRPEF comunale quindi le cosiddette addizionali però il margine è poco che cosa deve fare il comune intanto una sorta di equità rispetto alla tassazione ci sono nelle pieghe delle norme che stabiliscono questo potere per il comune delle possibilità per rendere più eco questa tassazione la più eco possibile io dico che nel momento in cui un amministratore si trova per esempio a dover essere colui che alza le aliquote se chi è stato ad alzare le aliquote ha commesso un errore nel senso che ha una responsabilità perché avrebbe potuto fare diversamente l'amministrazione successiva se è più brava cosa fa? Modifica quell'attività questo non accade mai perché quella è una attività ormai quasi obbligata se non si torna ad un centralismo fiscale che in qualche modo liberi i comuni da questa attività diventa un'attività abbastanza ingessata ma questa è un'attività che ormai i comuni conoscono bene e che non è più cavallo di battaglia né dell'una né dell'altro infatti nessun candidato può pensare a meno che non voglia fare del populismo vero di dire io abbasso le aliquote io faccio nessuno si è sognato di dire neanche tra noi tre credo che non ci sia comune in Italia su cui si possa fare questo quello che invece bisogna fare è sicuramente concentrarsi su come si impiegano quelle risorse su come si impiegano quelle risorse le poche che ci sono perché tanto la differenza sta lì non avendo grandi risorse avendo o la capacità di andarsela a cercare come dicevamo prima e questo è un tema su cui l'attività amministrativa si deve concentrare perché è vero che le risorse ci sono a livello europeo perché i programmi sono sempre esistiti l'Italia è il paese che spende meno e male in tutta Europa rispetto a tutti gli altri paesi anche rispetto a quelli che sono subentrati alla fine che sono quindi meno preparati ma sono stati più bravi a spendere quindi andare alla ricerca di risorse spendere meglio quelle che ci sono per fare in modo che tutti i servizi che vengono dati siano i più efficaci e efficienti possibili grazie fidanza siamo all'ultimo giro per quanto riguarda la presentazione dei programmi e di quello che si intende fare nei prossimi 5 anni prima dell'appello finale allora ripartirei da Ottavio De Martins abbiamo detto molto fino a questo punto della nostra trasmissione di questo speciale dedicato al comune di Montesvano che cosa ancora aggiungere Ottavio De Martins per come dire completare il quadro ci sarebbe tanto cerco di sviscerare in questi tre minuti dei punti cruciali del nostro programma vogliamo dotare la città di un nuovo piano regolatore che è un piano regolatore che diversamente da quello nefasto che ha in qualche modo portato Montesvano ad essere quello che da un punto di vista soprattutto urbanistico voglia in realtà non consumare altro suolo ma voglia regalare alla città finalmente dei servizi adeguati degli spazi adeguati verdi piazze e tutto quello di cui i cittadini hanno bisogno al tempo stesso dobbiamo dotare assolutamente la città di un put di un piano del traffico di cui la città manca lo faremo in parallelo con la redazione del piano regolatore un put che anche questo migliori la viabilità cittadina e la vita dei cittadini e non solo in tema di sicurezza vanno assolutamente incrementate le forze dell'ordine di presenza del territorio e per questo motivo io mi farò portavoce presso il ministero della difesa e il ministero dell'interno affinché si possano incrementare le risorse presenti inadeguate a un territorio come quella di Montesilvano e magari a istituire a Montesilvano finalmente un commissario di polizia di quella città avrebbe assolutamente bisogno implementeremo sicuramente l'organico della polizia locale che se si ragiona in parallelo con Pescara è assolutamente non inadeguato è proprio ridotto al lumicino nella misura in cui a Pescara ci sono centinaia di vigili urbani sul territorio noi abbiamo un comando con 32 vigili e questa dice lunga su quanto tanti servizi sono forniti nonostante tante difficoltà e quindi per questo faccio anche un applauso ai nostri vigili urbani che molto spesso sono visti come una risorsa da denigrare in realtà loro veramente fanno tanto per quello che riguarda il sociale assolutamente va potenziata la nostra azienda speciale vorrei dire tanto anche in merito ai servizi sociali che noi abbiamo offerto a Pescara vicina Pescara in un'ottica di collaborazione ma che ci sono stati servizi che potevano essere condivisi anche per il territorio di Pescara ma che sono stati rifiutati avrebbero portato giovanemente due territori e questa dice lunga su quanto probabilmente c'è un'idea di Grande Pescara però non supportata poi d'azioni importanti che sono quelle che dovrebbero essere portate avanti e non la cancellazione di Montesilvano di Spoltore della cartina geografica in tema di turismo vogliamo battere parecchio sul turismo sportivo che in questi anni ha dato tanta soddisfazione anche implementando e migliorando le condizioni le strutture esistenti ma anche sul turismo accessibile di cui Montesilvano è all'avanguardia grazie all'ufficio di Sabili che in questi anni ha portato avanti un'azione che ha prodotto al di là delle spiagge accessibili anche tanti servizi per chi vive una situazione di disagio quindi tutto questo vuole rendere Montesilvano migliore e ci sono gli strumenti per farlo e soprattutto l'idea per farlo grazie De Martinis Parichella anche a lei non voglio condizionarla con domande le lascio questi tre minuti per come dire toccare quei punti che nel corso della trasmissione non abbiamo affrontato pur avendo detto già molto fino ad ora beh certo abbiamo detto molto ma è ovvio che i nostri programmi abbracciano tanti altri temi importanti per i cittadini e per garantire questa crescita della città uno dei temi appunto abbiamo prima un po' così ci siamo passati sopra al volo era quello del decoro urbano che poi si lega al grande tema dell'ambiente è evidente che ci sono al momento zone di Montesilvano abbastanza degradate anche lungo la strada parco io abito lungo la strada parco e quando passeggio vedo che ci sono veramente situazioni parchi anche comunali abbandonati chiusi addirittura e questo è un peccato perché invece sono spazi vitali per i cittadini e anche per i turisti quindi è chiaro questi problemi abbiamo detto girano tutti quanti intorno ad un unico fulcro riguardo all'ambiente per esempio abbiamo immaginato di intanto potenziare questa gestione virtuosa dei rifiuti quindi è stata già cominciata una campagna porta a porta di raccolta benissimo questo è un plauso all'amministrazione precedente va ovviamente incentivata spinta e quindi fare in modo di poterla estendere a tutta la città perché dobbiamo fare in modo che anche a Montesilvano si inneschi questo circolo virtuoso per cui il rifiuto diventa una risorsa non soltanto un motivo di spesa per l'amministrazione e infatti ad esempio vogliamo dotare la città cosa che esiste in tanti altri posti nel mondo di macchine compattatrici dove appunto il cittadino può portare la propria bottiglia di plastica e avere in cambio una monetina questo è un modo per ridurre la plastica come un altro modo per ridurre la plastica è ovviamente di concerto con tutti gli attori interessati cominciare ad organizzare gli eventi pubblici all'insegna del motto plastic free cioè ci sono ormai posate piatti forchette cortelli di materiale biodegradabile non plastico che appunto impattano meno sull'ambiente e possono essere riciclati o meglio smaltiti con estrema facilità anche in discarica è importante anche poi istituire secondo me un nucleo di controllo che già c'è un nucleo di controllo ambientale però possiamo aumentare le fototrappole abbiamo visto la stessa Virginia Raggi a Roma sta ottenendo risultati clamorosi a Montesilvano ce ne sono già diverse aumentiamole perché il cittadino va educato in qualche modo e a volte anche la repressione è importante perché è un deterrente per il futuro ecco una cosa che vorremmo fare e la faremo sicuramente è quella di coinvolgere i ragazzi delle scuole in questa attività di sensibilizzazione rispetto all'ambiente io da volontario qui si è parlato molto di volontariato ecco io sono uno di quelli che il volontario lo fa e soprattutto con questa particolare attenzione verso l'ambiente e già da qualche anno proprio ho organizzato nelle scuole di Pescara degli incontri con i bambini delle scuole alimentari con un progetto che si chiama il sole in classe un progetto che sensibilizza i ragazzi sulle rinnovabili ma anche sull'ambiente ecco dobbiamo partire da loro quindi fare in modo che i ragazzi crescano con questa cultura del riciclo dello smaltimento differenziato dei rifiuti e questa cultura dell'ambiente benissimo Enzo Fidanza completiamo questo giro degli ultimi tre minuti per parlare ancora di programmi prima degli appelli finali che cosa vuole mettere in risalto allora intanto mi preme rievidenziare un aspetto importante che a me da cittadino montesilvenese mi preoccupa che è quello della grande Pescara allora non per evidenziare le diversità di vedute dalla stessa parte della coalizione tra Montesilvano e Pescara ma per capire Montesilvano è così ferma sull'idea e non mi riferisco sicuramente alla mia parte politica e credo neanche alla parte politica dei 5 Stelle è così ferma nel dire che se dovesse vincere il candidato del centro-destra rallenterà se non addirittura frenerà questo percorso che è già avviato domanda di riflessione importante perché molte delle attività programmatiche di cui noi parliamo che sono in attività sinergica in maniera inerudibile con la città più grande perché Pescara e Montesilvano sono una città lineare senza soluzione di continuità ora non possiamo noi pensare di dare una soluzione e pescarne da un'altra o il contrario sarebbe veramente fuori luogo comunque sbagliato voglio tornare su un aspetto che ho toccato prima sulla tassazione io c'è un'imposta l'unica imposta che si potrebbe come dire mettere sul territorio comunale e che non sarebbe pagata dai montesilvanesi io mi domando per quale ragione l'amministrazione attuale uscente di centro-destra non l'ha mai proposta e soprattutto non la propone in un futuro è l'imposta di soggiorno l'imposta di soggiorno per chi è abituato ad andare in giro la paga da tutte le parti sappiamo ognuno di noi che quando va a risiedere da qualche altra parte per un tempo limitato trova l'imposta di soggiorno l'imposta di soggiorno è un'imposta cari elettori di Montesilvano che intanto non pagate voi ma il cui introito ricade sul vostro territorio ed è un'imposta a carattere vincolato non è che il comune introita l'imposta di soggiorno e ne fa quello che vuole ne deve fare quello che dice la legge quindi manutenzioni abbellimento della città attività ricreative attività propositive da un punto di vista culturali spettacoli estivi insomma è un meccanismo che si autofinanzia questo imposto di soggiorno non se ne parla io dico che va istituita perché tutti i posti turistici che sono frequentati tra l'altro da recittività alberghieri importante come quella nostra può chiedere questa contribuzione a tutti quelli a meno che noi non pensiamo e abbiamo messo come dire l'idea in soffitta che siccome non siamo in grado di dare nessun servizio non chiediamo l'imposto di soggiorno dobbiamo fare il contrario invece dobbiamo fare in modo che tutto quanto quello che noi costruiamo per i turisti sia un percorso virtuoso credo 10 secondi 10 secondi ancora 10 secondi allora me ne risparmio per no volevo dire un'altra cosa importante da un punto di vista del commercio Montesilvano è una città storicamente da un punto di vista commerciale che ha avuto sempre questa sua vocazione e che però negli ultimi anni è stata soffocata lo dico sempre da un'attività di grande distribuzione che l'ha soffocata perché insomma è stata circondata il commercio montesilvanese va rivitalizzato non va rivitalizzato soltanto facendo delle semplici attività ma va rivitalizzata e riposizionata l'attività commerciale soprattutto nel centro della città mettendosi in sinergia con le attività commerciali in modo tale che possa tornare ad essere quello che è sempre stato nel tempo lasciando la grande distribuzione di suo compito e riportando a sé quello che invece è la boutique di quartiere grazie fidanzo allora siamo giunti al termine abbiamo solo il tempo da concedere ai nostri candidati sindaco per l'ultimo appello per convincere gli elettori a darvi il voto a darvi la propria preferenza Ottavio De Martins perché votarla? allora mi si consente intanto di dire un'ultima cosa velocissimo noi non siamo contrari a cogliere le opportunità che un'unificazione una gestione condivisa dei servizi possono portare al territorio al nostro territorio a quello di Pescara a quello di Spoltore e allargherà anche altri comuni di Mitofi noi siamo contrari a che questo passi in secondo piano e in primo piano avvenga soltanto un processo che porti alla scomparsa appunto di un'identità montesilvanese per questo motivo io se voi cittadini volete al di là di una grande Pescara che è soltanto un nome uno spot a mio avviso una Montesilvano Grande con dei vicini di casa con i quali parlare del bene nostro del nostro territorio votate Ottavio De Martinis votate il centrodestra il centrodestra perché coalizione che ha in questi cinque anni dimostrato di saper governare bene il territorio e di voler bene a Montesilvano Ottavio De Martinis perché da montesilvanese doc è innamorato della sua città e come tale vuole il meglio e sarà sempre presente sul territorio sempre vicino a voi cittadini e farà come sempre l'impossibile affinché Montesilvano diventi non soltanto la terza città d'Abruzzo sulla carta ma una città a tutti gli effetti grazie Raffaele Panichella anche a lei un minuto per l'appello finale ma io penso che i cittadini di Montesilvano anche da quello che hanno ascoltato stasera si siano resi conto di quali sono le forze politiche che vogliono proiettare questa città nel mondo verso il terzo millennio nel futuro e quali invece sono ancora ancorate a vecchie logiche a vecchie visioni che ormai hanno dimostrato essere soltanto fallimentari ma soprattutto non adeguate qui ci troviamo davanti a un mondo che cambia ogni cinque anni prima ci volevano generazioni ormai il mondo del lavoro il mondo del sociale la nostra collettività cambia la velocità della luce e se non si è in grado di cogliere questa velocità e di salire sul treno al momento giusto questo treno che è in corsa velocissimo si resta in stazione fermi tutti stasera si sono lamentati della mancanza di risorse ecco quando sarò sindaco io le risorse so dove andare a prendere perché istituirò come prima cosa uno sportello Europa ovviamente bisognerà verificare se in aus abbiamo le figure e le professionalità tali per poterlo strutturare ma invece lo potenzieremo metteremo dentro gente capace che parla le lingue che sa leggere i bandi europei che sa dare informazioni ai cittadini a chi vuole avviare imprese allo stesso comune perché il comune non fa niente non attua progetti di sviluppo per la città perché non ha i fondi e non sa dove andargli a cercare in Europa e in più mi consenta recupero il minuto di fidanza di prima faremo uno sportello per i giovani perché ci sono tante opportunità di lavoro adesso il governo ha proprio in questi giorni fatto il bando Fermenti è un bando bellissimo mette a disposizione dei giovani tra i 18 e i 35 anni una valanga di quattrini a fondo perduto per progetti di utilità sociale nel campo dell'ambiente dell'innovazione della tecnologia i ragazzi di Montesilvano non lo sanno ecco con noi lo sapranno e usciranno da questa schiavitù della disoccupazione grazie Panichel Enzo Fidanza anche a lei l'appello finale io credo che l'esperienza che noi stiamo vivendo adesso con questa tornata elettorale mi riferisco al centro-sinistra sia un'esperienza interessante e per la quale vale la pena di chiedere il voto e sono sicuro che arriverà perché ci sarà sicuramente questo riconoscimento di aver introdotto un meccanismo di rinnovamento che non significa aver escluso qualcuno significa aver accompagnato nuove generazioni a questa importante attività di sviluppo collettivo perché tanto occuparsi della cosa pubblica per quanto ci riguarda significa questo perché votare noi perché noi mettiamo insieme e coniugiamo esperienza e innovazione io mi domando in contrapposizione al centro-destra come farà Ottavio De Martinis a governare con una serie di contrapposizioni che sono insite e all'interno della sua coalizione che già si sono manifestate negli anni che si sono succeduti nei cinque anni ma che si sono ancora più caricate di adesioni dell'ultimo momento io credo che questa nostra proposta sia una proposta a difesa di tanti punti programmatici che abbiamo già sviluppato e che abbiamo toccato questa sera sicuramente se ci saranno occasioni avremo scenderemo ancora più nel merito di alcuni punti qualificanti e importanti e che credo la città saprà riconoscere perché con la città stiamo parlando e glielo stiamo raccontando grazie Enzo Fidanza sì per annuncio ai nostri telespettatori ci sarà un altro appuntamento di questo speciale lezione dedicato appunto al comune di Montesbano lunedì 20 maggio sempre con i tre candidati a sindaco candidati a sindaco che saluto e ringrazio quindi ringrazio Ottavio De Martinis candidato a sindaco del centrodestra così come ringrazio l'architetto Raffaele Panichella candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle ed il dottor Enzo Fidanza candidato a sindaco del centrosinistra grazie a voi tutti della cortese attenzione l'invito mio personale è quello del 26 maggio di andare a votare grazie e arrivederci